Ciao a tutti ragazzi, qui è Romericronzai. Oggi vi porto a conoscenza, in caso non l'avviate già visto o incontrato di persona, vi porto a conoscenza di questo misterioso avvenimento, diciamo. Un misterioso avvenimento che in realtà, secondo me, è secondo il 95% della community di Red Dead Redemption, è comunque un bug che è stato introdotto, insieme a una moltitudine di altri bug, con la patch 1.21. E praticamente si tratta di questo NPC, che la maggior parte di questi giocatori che l'hanno incontrato, l'hanno incontrato con diverse armi, con o senza barba, comunque un uomo pelato, normalmente caucasico. Io ho avuto modo di trovarlo, però penso di aver trovato la sua versione nera, la sua versione africana. Che c'è di così strano, di così misterioso, no? Come dicono nei subreddit. Praticamente, non si comporterà come un normale NPC nel gioco. Alcuni ipotizzano che siano degli hacker che riescono a celare, o che riescono a nascondere il proprio nome, il proprio username, in modo da non essere scoperti, in quanto quel particolare volto, con o senza barba, è solitamente il volto default di quando andiamo a creare il personaggio. E questo succede spesso con gli hacker, che con vestiti o robe moldate, non vengono correttamente visualizzate. In ogni caso, esclusa a priori questa, perché non apparirà veramente nulla, neanche quando andremo ad ucciderlo, possiamo prendere per buona la teoria, abbastanza, appunto, sembra valida, che questo NPC in realtà sia un omaggio della Rockstar a Dan Hauser, che praticamente ha lasciato appunto la Rockstar. Se invece vogliamo continuare ad analizzare la cosa, a vederla in modo scettico, a vederla in modo... quali sono i fatti, insomma, che non siamo per niente convinti che questo sia un omaggio, ma è solo un cazzo di bug, Praticamente, questo qua, i fatti sono che, ah, puoi picchiarlo, puoi provocarlo, eh, che lui non reagisce. Puoi ucciderlo, sì, ma a fatica, e non è sempre possibile, in quanto a volte entrerai in modalità tipo pacifica, ok, tu puoi continuare a colpirlo, che non avrà effetto, ok, colpisci il corpo, ti farà animazione, ma non fai danno. Oppure, come è successo a me, si teletrasporta via, sparisce tutto di un colpo. In ogni caso, che sia una o che sia l'altra, a me non cambia molto. È sicuramente curiosa la cosa, anche perché ci sono, appunto, vari meme, come avete visto. E, niente, volevo portarvi a conoscenza di questo fatto, e ci si vede nel prossimo video. Ciao a tutti.